Verrà ricordato come un eroe Jack Johnson, il piccolo di 10 anni, morto nel tentativo di salvare due bambini di 8 e 11 anni, che domenica hanno perso la vita nel Regno Unito dopo essere caduti nelle acque gelide di un lago vicino a Solihull nei soborghi di Birgingham. I bimbi stavano camminando sulla superficie ghiacciata del lago quando il gelo ha ceduto sotto il loro peso. In quattro sono finiti sul fondo e solo uno di loro, un piccolo di 6 anni, è stato estratto vivo dai soccorritori e trasportato in ospedale, dove è attualmente ricoverato in condizioni gravi. I primi a intervenire sono stati alcuni passanti seguiti da agenti di polizia che si sono immersi fino alla cintola nel disperato tentativo di salvare i bambini. Solo l'intervento dei vigili del fuoco specializzati nel soccorso in acqua tuttavia ha permesso di recuperare i piccoli. A due giorni dalla tragedia è emerso che una delle giovani vittime, Jack Johnson, sarebbe annegato nel tentativo di salvare gli altri bimbi. È stata sua zia Charlotte a raccontare l'episodio in un post su Facebook spiegando che il ragazzino non conosceva i suoi coetanei. Mio nipote ne ha visto uno attraversare il ghiaccio del corso per cercare di salvarlo. Siamo devastati pensando che è morto cercando di salvare tre ragazzi che non conosceva nemmeno.